Vogliamo raccontare passioni. Vogliamo raccogliere dal viaggio tutto ciò che capita e farne tesoro di arricchimento personale, missione, aiuto, appagamento. Vogliamo capitare e captare, conoscere e crescere. Vogliamo emozionarci ed emozionare. Trasformare tutto ciò che accade in una chiave di crescita e conoscenza. Una parola, avventura, semplice e pura. Contemplare un paesaggio insolito, coinvolgere persone, aiutarle a realizzare un proprio sogno, raccontare un'impresa più o meno eccezionale. Valorizzare storia, luoghi e cultura. Perché al termine di ogni avventura, le persone ne escono più compatte e coscienti della propria forza e dei propri limiti. Da sempre l'umano cerca. Il pensiero vuole raggiungere. Con rispetto, raggiungere luoghi fuori e dentro ognuno di noi, dove la quotidianità non ci permette di sperimentare, di vivere. Luoghi che stanno al di là dell'orizzonte spaziale in cui siamo abituati a muoverci. Abbinando il piacere che si prova nel vedere un bel paesaggio, con quello della sperimentazione di una nuova emozione. Sulle strade dell'avventura ti porta dove ti spinge la tua passione. Perché alla fine della strada non si rimpiange i tratti percorsi, ma quelli ignorati. E l'assi su cui si impermia questo tipo di esperienza è tutto. Perché nella vita ci sono le strade che devi fare e quelle che vuoi fare. Ti portiamo dove ti spinge la tua passione. Grazie.